Ho chiesto, in tomo un po' più friendly, la battuta che ha fatto Berlusconi al nostro autore, ho detto ma mia mamma e Berlusconi cosa hanno di comune? L'età intanto, mia mamma ha un paio di anni in più di Berlusconi, ma mentre capisco, posso capire che per mia mamma il ragazzino è sempre giovane, è sempre figlio, quindi dice non vuole vedermi invecchiato, questo giovanilismo da parte di Berlusconi ovviamente questo non lo capisco, però abbiamo visto che in questi giorni ha deciso di ritornare in campo, quindi young forever e lo prendiamo in questo modo. Allora, tornando alle cose serie, il libro che presentiamo questa sera, di Antonio Polito, Prove tecniche di Ressurrezione, come riprendersi la vita, non sappiamo che nella vita di ciascuno ci sono i momenti significativi che fanno da spartiacque tra un prima o poi, situazioni che ti obbligano a ripensare la tua vita anche nell'ottica della necessità del cambiamento. Uno di questi è sicuramente l'età. Una volta superati i 60 anni, se uno veramente prende consapevolezza del tempo che gli rimane, può scegliere di ricominciare di nuovo a vivere, ecco il titolo della rinascita, con l'ambizione di cercare la felicità. È un libro che può essere utile anche per coloro che non sono ancora entrati nel quarto quartile, perché è un insegnamento su come bisogna saper riprendersi coscienza di se stessi e di che cosa anche vogliamo. E io penso che prima o poi tutti lo dovremmo fare e quindi tanto meglio arrivarci prima preparati. Di questo e di tante altre cose discuteremo questa sera con il nostro autore Antonio Pulito, che ringrazio per la sua presenza e gli sposo i nostri auguri e benvenuta. Antonio Pulito è un personaggio conosciuto, ha un lungo curriculum, e attualmente, lo sapete, vice direttore del Corriere, è un importante editorialista, ha scritto anche i libri che riguardano poi anche questi temi, perché si parla di generazione, i figli. Ha una lunga esperienza in più quotidiana e anche un'esperienza politica, tutti conosciamo. Discuterà con, o meglio dialogherà con Antonio Pulito, il nostro dottore Fabrizio Fusco, pediatra, libro professionista, e mi sono chiesto anche, ma, allora, parliamo di, cioè il libro parla di una certa età, quarto quartile dai 60 anni, che ci fa un pediatra a dialogare con Antonio Pulito. Intanto non penso di nascondere nulla, possiamo pensare, anche se lui non ha la barba bianca, che sia entrato anche lui nel quarto quartile, presumo, giusto? E poi ho pensato, ho visto che si parla di rinascita, e ho detto, e dobbiamo ricostruirsi in una vita, uno che parte con un bambino appena nato, ci sta, cioè abbiamo dall'alfa all'omega, e quindi abbiamo tutte queste due esperienze. Allora, ringrazio l'amministrazione comunale che ci dà il patrocinio, in questa serata, il nostro sponsor, sempre molto sensibile, di Tamer. Quando dico, ah, ma è con il libro, anche qui, e dico, mi viene in mente, ha la figura del suo fondatore, Battistella, e penso che quello sia un bellissimo esempio di uno che ha saputo rinnovarsi in continuazione, quindi, non dico, non si può usare un termine troppo importante, è rinascita, ma lui potrebbe essere rinato più volte nella sua esperienza professionale. Alla fine della sala, il solito banchetto messo a disposizione per chi volesse per acquistare il libro, chi non l'avesse già fatto, fosse interessato ad essere informato di nostre iniziative, può lasciare in fondo, c'è un modulo, la propria mail, noi li informeremo in tutti gli incontri che andiamo a fare. e nel ringraziarvi per la presenza e la presenza anche di ospiti, darei la parola al sindaco per un saluto e grazie, godiamoci a serata. Grazie, buonasera a tutti, sgombriamo subito il campo dagli occhibuci, sono nel quarto quarto anch'io. Mi ero illuso, ma l'autore prima mi ha detto no, se la metta via il sindaco e anche lei, io pensavo di stare per arrivare al quarto quarto, ma invece ci sono. Anch'io ringrazio tutti voi per la vostra presenza, mi fa piacere che siate così numerosi, ringrazio Guangxi e Amer e naturalmente ringrazio Antonio Polito e Fabrizio Fusco per la serata che ci appresteremo a vivere tutti assieme. Il tema è interessante non solo per me ma per molti di voi, vi assicuro che il libro è molto gradevole, contiene una serie di consigli, a parte la barba bianca di Eliseo, ma ce ne sono tanti, che da persona che arriva nel quarto quarto sono davvero degni di essere presi in considerazione. A me è venuto in mente, pensando a quello che c'è scritto nel libro, non so se qualcuno di voi c'era lunedì sera, un urbanista, il professor Munarin dello Uav, parlava della differenza tra riuso e riciclo, come l'autore parla di rinascere e resurrezione. Riciclo e riuso, riuso è usato anche per i rifiuti, oltre che in termini urbanisti, il riuso è praticamente ad operare più volte per la stessa funzione un oggetto o una volumetria, secondo gli urbanisti, mentre riciclo vuol dire proprio cambiamento, vuol dire cambiare prospettiva, mettere al timone, come dice lui, un altro se stesso. E quindi c'è una bella similitudine che mi è venuta in mente oggi. In ogni caso, questa parola riciclo o resurrezione allunga la vita e ci fa anche sentire meglio. Quindi buona serata a tutti, lascio la parola a loro. Buonasera. Allora, entrare nel quarto quarto della vita significa anche dimenticarsi a casa le 50 cartelline che avevo preparato per presentare brevemente Antonio Polito. Bisogna appunto, come dice anche lui, accettare i propri limiti, la memoria che comincia ad andare, e comunque andiamo avanti lo stesso, sarò più breve e circonciso, come diceva un mio amico. Antonio Polito è appunto mio coetaneo, abbiamo sei giorni di differenza, io ho sei giorni meno di lui, siamo nati nel maggio del 56 entrambi, lui a Castellamare di Stabia, io a Venezia. Anche io mi domandavo perché sono qui, probabilmente per questa concomitanza di età, e perché probabilmente abbiamo fatto le stesse riflessioni, lui naturalmente più profonde, e anzi lo ringrazio perché la lettura del libro mi ha permesso di approfondire alcuni aspetti che io, come molti, tentavo di non guardare in faccia. Come giornalista è noto, sapete che ha iniziato la sua carriera nella redazione napoletana dell'Unità, poi ha continuato successivamente, mi pare, nell'88 a Repubblica, è diventato anche vice direttore, successivamente nel 2002 è stato fondatore e direttore del Riformista e dal 2015 lavora per il Corriere della Sera, prima come editorialista e successivamente come dal 2012. Dal 2015 invece come vice direttore è responsabile dell'edizione romana del Corriere della Sera che ha abbandonato nell'ottobre scorsa. Se Wikipedia è abbastanza e la mia memoria sta cercando di farsi perdonare l'errore precedente. Non c'era scritto, mi dispiace. Dal punto di vista politico tutto è nato con un aneddoto, anzi se vuole subito interloquire, perché ho letto che appunto finita la maturità si è iscritto al partito comunista, marxista, leninista, dal quale però è stato subito buttato fuori perché si era iscritto a un club del tennis, attività considerata troppo borghese e quindi espulso. È vero questo? Ma sì, quella era a servire il pop. Buonasera innanzitutto. Grazie dell'invito, grazie al sindaco. Fra l'altro, una piccola parentesi, lei ha accolto molto bene la differenza tra rinascita e resurrezione, perché in effetti io non parlo di rinascita, nel senso che la resurrezione presuppone una morte. Ecco, quindi io penso che l'argomento di questo libro, che poi è il quarto quarto, ma non solo, nel senso che è questo momento in cui muore una cosa di te e ti accorgi che sei diverso, che c'è stato un grande cambiamento, c'è un pezzo di te che tu pensavi di essere ancora, che invece non è più, non è necessariamente solo legato ai 60 anni o nel caso delle signore anche un po' più in là, perché voi avete un'aspettativa di vita più lunga della nostra, quindi nel quarto quarto ci entrate dopo, ma può essere motivato. Io per esempio ho incontrato delle persone anche molto giovani, più giovani di me, che per una vicenda personale, per un trauma, per un lutto, per la perdita di un genitore, per una sconfitta amorosa, professionale, avvertivano che se ne era andato un pezzo. Quindi resurrezione è diverso da rinascita perché presuppone un cambiamento radicale, cioè una cosa è finita e quindi una parte di te è finita e quindi quella non la puoi più rincorrere, questo poi è il tema del libro. No, per quanto riguarda la storia del tennis, per tornarci su, quello era servire il popolo, io penso, diciamo, ci sono molti miei coetanei in sala, quindi servire il popolo se lo ricordano, era servire il popolo, quelli celebravano i matrimoni di partito, cioè facevano i matrimoni, i segretari di sezione celebravano i matrimoni, era una strana setta e in effetti sì, mi mandarono via perché io non ero iscritto al circolo, perché il circolo era il circolo borghese della mia cittadina, Castellammare di Stabia, io non ero abbastanza borghese da poter essere accettato in quel circolo, papà non era un professionista, era un impiegato semplice, quindi non... e infatti lì andavo solo a giocare a tennis e ci avevano anche detto di non entrare nel bar dopo aver giocato a tennis perché non ci volevano e quindi in effetti ero... stavo male da tutte le parti, non ero... non ero riconosciuto nel circolo, non ero riconosciuto più a servire il popolo e quindi per fortuna mi cacciarono per fortuna perché poi insomma ho avuto una vita più normale dopo servire il popolo, tra l'altro tra parentesi proprio l'altro ieri ho ricevuto una lettera del presidente di quel circolo del tennis che mi ha annunciato che mi daranno mi offre una diciamo una tessera onoris causa al circolo del tennis quindi questa è la mia parabola da servire il popolo al circolo del tennis eh? è una risurrezione e successivamente si è ha fatto tutta la trafila FIGC partito comunista però nel 2008 è stato candidato dalla Margherita 2006 2006 2006 dalla Margherita ed è stato senatore nella quindicesima legislatura legislatura breve perché è durata un paio d'anni appunto fino al 2008 e poi ha deciso di non di non ricandidarsi insomma e ha continuato invece la carriera la carriera il suo la sua attività principale di giornalista appunto col Corriere della Sera eccetera tra l'altro ho visto che oltre ai libri ha scritto una bella serie di libri a partire dal 2007 i principali oltre il socialismo in fondo a destra del 2017 e riprendiamoci i nostri figli che parla della di questa emergenza educativa che spetta i genitori è molto più difficile oggi fare il genitore rispetto a a una volta io ho apprezzato moltissimo quell'articolo di quell'editoriale che ha scritto dopo che c'è stata quella serie di morti in quella discoteca ah sì a Corcorano come si chiama sì ancora insomma nelle marche perché lui ha una scrittura la vedrete anche nel libro che è molto briosa è molto è molto bella in cui racconta che fortunatamente noi ai nostri tempi non conoscevamo bene l'inglese e quindi non conoscevamo i testi delle canzoni dei Beatles che parlavano di LSD e di tante altre cose e quando anche avessimo capito che cosa che cosa dicevano quei testi sarebbe comunque stato difficile procurarci la droga oggi non c'è solo Sfera e Basta che ha dei testi molto espliciti ma è anche più facile incontrarsi e scambiarsi informazioni sui social e trovare la droga dappertutto per cui era solo un richiamo al fatto che è sempre un piacere leggerlo e anche questo libro vedrete che scorre molto velocemente quindi oltre ai libri però ci sono anche due presenze in film uno del 2004 Mani Pulite cioè un film che erano dei film documentari uno era Mani Pulite l'altro Viva Zapatero del 2005 di Sabina Guzzanti questo dice questo afferma questo afferma che è sposato ha tre figli di cui una più grande c'è un amante poi c'è la gara racconta tutto e che è tifoso interista e anche su questo ci sarebbe molto da dire anche se come mi ricordava lui prima tra Inter e Lazio c'è una solidarietà perché sono due neurosquadre cioè due squadre pazze che tanto possono vincere 4 a 0 quanto perdere 4 a 0 ma questa è un'altra storia andando appunto al libro come avete capito il quarto quarto della vita nell'ipotesi che si viva l'aspettativa di vita sia 80 anni e a 60 anni si entra nel quarto quarto della vita è quella che in America è stata chiamata la Grey Generation di cui ci ha parlato anche alcuni anni fa qui in questa sala Rampini la generazione dei capelli grigi e la generazione dei baby boomer di quelli nati dopo il secondo conflitto mondiale e mai come adesso siamo così tanti perché fermo restando che l'Italia ha il paese europeo che ha il maggior numero di oltre 65 anni anche l'Europa non scherza perché si è passati negli ultimi 20 anni dal 22 al 30% della popolazione quindi stiamo invecchiando c'è una bomba demografica che prima o poi scoppierà e quindi effettivamente invece che il pediatra probabilmente avrei dovuto fare il geriatra ma non era pensabile un'evoluzione del genere 30-40 anni il libro come dicevo è assolutamente piacevole da leggere ed è un tentativo di nel momento in cui ma adesso approfondiremo questo tema ci si rende conto di essere a scadenza che è cominciato il countdown della nostra vita è un tentativo di appunto risorgere magari cercando di rinascere meglio di prima più buoni più bravi più aperti agli altri e dopo il capitolo introduttivo in cui ci sono le motivazioni e le idee iniziali sul perché di questo libro e adesso è la domanda che gli farò e nei capitoli successivi vengono proprio prese in considerazione tutte queste tecniche per cercare di trovare una via per appunto riuscire a riprendersi la propria vita e e vivere meglio questo quarto quarto della vita un esempio per esempio visto che ci si comincia a percorrere nuove strade un nuovo cammino di risurrezione una delle cose che fanno tutti i camminatori è di ridurre al minimo il proprio bagaglio e ridurre il bagaglio naturalmente non è il fine ma è soltanto il mezzo per cercare di fare una selezione delle cose veramente importanti nella nostra vita che riguardano non soltanto i libri e tutte le memorie e tutti gli oggetti che ci ricordano qualcosa e lui stesso suggerisce di fare in modo che tutti i ricordi e tutti i libri che hanno contato più nella nostra vita stiano in una scatola di scarpe e anzi sentiremo visto che lo esplicita anche nel libro cosa mette lui nella sua scatola di scarpe ma anche tralasciare tutte quelle cose che una volta ci sembravano utili e importanti e che a questo punto non facciamo più con gioia come per esempio visto che lui vive a Roma ed è stressante guidare la macchina a Roma abbandonare la guida dell'automobile abbandonare le amicizie stanche e che non ci danno più niente abbandonarne per crearsene delle altre non per isolarsi naturalmente permettere ai figli di prendere il volo e passare magari dal multitasking che è un modo stressante e molto superficiale per vivere mi piace molto termine al monotasking che è un qualcosa di più profondo e di più lento che è più confacente al quarto quarto della vita infine appunto la riscoperta della gioia dell'aprirsi agli altri di fare qualcosa per gli altri dal volontariato dal comunque spendersi per le altre persone e su questo aspetto della felicità di donare agli altri Platone ha costruito costruito una filosofia e Paolo di Tarso ha scritto una religione quindi è in buona compagnia quindi comincerei dopo aver lanciato un po' di idee dalla prima domanda appunto da cosa è nata l'idea di questo libro allora sì ripeto i ringraziamenti innanzitutto ma l'idea non è un'idea è un trauma nel senso che come dicevo prima credo che questa riflessione venga sempre provocata da un cambiamento talvolta improvviso non voluto non cercato che uno riconosce nel mio caso è il più banale di tutti insomma è quello un po' di non so lei prima diceva che ha vissuto un'esperienza analoga di guardarsi allo specchio e di vedere negli occhi una persona diversa e una persona maledettamente simile a mio padre che se n'era andato a mio padre da anziano da vecchio cioè a un certo punto della mia vita io ho riconosciuto nella immagine che davo di meno lo sguardo poi sostanzialmente più quello che sarei stato dopo cioè mio padre invecchiato che quello che ero stato fino allora e questo è una cosa che ti sconvolge perché io non so se è la vostra anche sensazione però è veramente improvvisa istantanea è un evento improvviso perché è vero che l'invecchiamento è una cosa lenta è un processo continuo in realtà cominciano quando nasciamo perché cominciano a invecchiare le cellule e così via però è come le nevicate cioè uno cade un fiocco alla volta e uno non ci guarda un fiocco alla volta poi si sveglia la mattina e tutto diverso e tutto bianco così è diciamo questa sensazione improvvisa di essere una persona diversa allora tutti ti dicono ma no ma che ti frega dai ma dai hai tanti anni davanti a te adesso si campa tanto a lungo ma come ti metti a pensare a queste cose e invece io penso che proprio perché c'è tanto tempo davanti a noi oggi nella nostra società nella nostra epoca perché prima non era così gli antichi romani campavano in media 30 anni noi campiavamo in media 81 i maschi 84 le donne ma è proprio perché c'è tutto questo tempo davanti a noi che merita di fare una riflessione su che cosa fare di se stessi in questo quarto quarto della vita questa parte diciamo così finale ma lunga perché è un bel tempo tanto tempo e quindi questo diciamo tutto nasce da questa da questa sensazione che all'inizio è diciamo è di grande spiazzamento perché è una sensazione di alienazione come se tu ti incontrassi con una persona che non è più quella che tu credi ancora di essere e tutto un tentativo di dirsi e di dire che è meglio non rincorrere diciamo la parte di sé che se n'è andata che è sparita perché se fai questo è quello che facciamo sempre tanti molti no fuggire fuggire da questa realtà fuggire con l'amante fuggire in Portogallo con la pensione fuggire non so fuggire dal lavoro dalla responsabilità fuggire dalla famiglia cioè ci sono tutta una serie di tecniche che tentano di acchiapparsi a quello che se n'è andato scappando e penso che siano insoddisfacenti che non risolvano niente e comunque non sono quello che così come anche tutte le le ipotesi di mollare oggi va molto questa cosa dei grandi manager che mollano mollo tutto Jack Ma questo tycoon cinese a 54 anni ha detto mollo tutto mollo tutto un cavolo perché ha 54 miliardi di dollari di patrimonio cioè mollo tutto che molli tutti saremmo buoni a mollare tutto lui ha detto mollo tutto perché non voglio morire in ufficio ma voglio morire su una spiaggia anche qui anch'io non voglio morire in ufficio però su una spiaggia non è che uno dice voglio mollare tutto per passare 20 anni su una spiaggia ma chi è che non lo so qualche donista ci sarà ma non credo che abbiamo costruito tutti questa vita 60 anni di vita eccetera per passarne 20 su una spiaggia a chiudere la propria vicenda quindi non è una soluzione non è una proposta di mollare anzi è una proposta di selezionare come diceva lei di liberarsi di una parte della soma del peso però per far questo bisogna lavorare perché bisogna scegliere scegliere quello che merita di portarsi con sé in questo viaggio e che merita poi un giorno di trasmettere come eredità ai propri eredi ai propri figli ai propri discendenti è quello che non merita e questo sia in senso concreto che metaforico sia nel senso della scatola dove ci metti dentro le cose che per te contero sia nel senso delle idee per esempio del mettere a verifica le proprie idee che è una cosa che prima o poi bisogna fare perché le idee invecchiano come gli esseri umani non so se si può dire qui si può dire che le idee invecchiano perché siamo tutti con idee invecchiate quindi è un lavoro è una cosa complicata faticosa difficile impegnativa è una cosa per cui vale la pena di continuare a vivere e quindi io penso cioè alla fine poi scrivendo questo libro sono partito da da una certa come dire da uno stato d'animo abbastanza triste e però invece piano piano mi è migliorata la situazione l'ho usata un po' come terapia insomma per me stesso e non credevo mai lontanamente che potesse interessare qualcuno questo processo invece ho scoperto con devo dire con sorpresa e anche con un certo allarme sociale che questa sensazione è condivisa molto condivisa che è un passaggio importante per un sacco di persone lei diceva prima i baby boomers siamo la generazione più grande della storia della storia cioè il numero di persone maggiori della storia la generazione maggiori oggi esistente vivendo sono quelli nati tra il 48 e il 64 i cosiddetti baby boomers quindi siamo in tanti ad avere lì più o meno un po' sotto un po' sopra i 60 e oltretutto rappresentiamo un grande problema sociale non solo perché andando in pensione svuotiamo diciamo le casse l'IMS perché siamo talmente tanti che ci portiamo via la cassaforte ma anche perché essendo tanti ed essendo ancora perfettamente in grado di produrre di avere idee di lavorare di essere utile alla società rischiamo invece stupidamente di essere abbandonati di essere lasciati il Papa ha parlato della cultura dello scarto di non essere più considerati in questo momento in questo mondo che paradossalmente proprio mentre gli anziani sono tanti è diventato giovanilista l'eccesso di essere lasciati andare mentre invece siamo una risorsa saremo una risorsa enorme importantissima di esperienza di conoscenza di cultura di insomma fondamentale che andrebbe usata quindi mi sono accorcio ho verificato diciamo così nel giro un po' nei contatti che mi ha provocato questo libro anche dell'esistenza a fianco al problema alla questione esistenziale anche di un grande problema sociale indubbiamente è una cosa che ho notato anch'io dopo aver letto il libro che il discorso di guardare in faccia la morte crea spesso come prima reazione quella di della fuga insomma mentre invece se uno vuole veramente vivere al meglio deve prima di tutto accettare il fatto di essere a scadenza e lui segnala un paio di cose carine che c'è per esempio una applicazione in voga negli Stati Uniti che ti ricorda cinque volte al giorno che noi dobbiamo crepare ed è un po' quello che ai tempi degli antichi romani ogni condottiero che veniva portato in trionfo dopo la vittoria in una battaglia si portava veniva associato uno schiavo che doveva continuamente ricordargli memento mori ricordati che devi morire perché è una cosa fondamentale purtroppo mi è successo con un paio di amici a cui avevo provato a presentare il libro di aver avuto invece un netto rifiuto perché c'è qualcuno che proprio non non vuole prendere in considerazione non è mica solo un'esperienza sua innanzitutto quando ho scritto il libro e ho mandato i capitoli l'editor diciamo così l'editore del libro dovevamo decidere come farlo mi ha detto ma senti ma questo capitolo iniziale non si potrebbe metterlo un po' più indietro verso il quarto quinto capitolo perché a me piace mi sembra è da lì che sono partito sì però parla di morte e quando sono andato in televisione per esempio a presentare il libro non ho mai avuto una domanda su questo capitolo mai cioè non mi ha mai chiesto nessuno su questo quindi non è un'esperienza solo sua e in realtà il capitolo parla di questo parla del tabù perché poi la cosa della app che si chiama We Croak che in inglese vuol dire noi schiattiamo in realtà nasce da un proverbio del Bhutan paese buddista il quale dice che per essere davvero felici bisogna pensare cinque volte al giorno alla morte allora questi americani hanno avuto subito l'idea di fare l'app cinque volte al giorno in momenti diversi non sempre alla stessa ora inaspettatamente ti squille il telefonino e ti compare il messaggio ricordati che devi morire che poi è la verità cioè perché è vero è così e poi e io dico faccio anche tutto un ragionamento sul tema perché la morte non è sempre stata un tabù a parte io ancora quando ero bambino io mi ricordo di essere stato portato sul letto di morte di mio nonno che mi ha fatto il passaggio dei gemelli d'oro e dell'anello di famiglia mi ricordo al paese di mia mamma che è un paese della campagna interna della campagna mi ricordo le signore che venivano a piangere ai funerali cioè quando moriva uno arrivavano queste donne dall'avvicinato tutto il sito di nero che passavano tre ore a urlare a strapparsi i capelli a piangere ed era uno spettacolo non solo ma c'era il morto di là e di qua si mangiava perché tutti portavano da mangiare si organizzava un banchetto il morto stava lì per due giorni tre giorni cioè c'era un'esibizione perché aveva una funzione educativa aveva una funzione come posso dire sì appunto educativa cioè si mostrava la morte qualcuno ha scritto che nell'ottocento la morte si mostrava e il sesso si nascondeva oggi abbiamo fatto l'opposto diciamo la morte la nascondiamo ma il sesso il parto per esempio sono tutte cose su cui non c'è più pudore ora questa novità della paura del tabù della morte della paura di discutere di parlare perfino della morte io la trovo una grande un grande pericolo della nostra epoca e comunque io lo sento come un per me lo sento come una cosa sbagliata cioè io penso che io voglio sapere voglio 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 vivere ogni istante voglio voglio essere informato voglio pensarci voglio avere del tempo per pensarci non voglio che mi arrivi all'improvviso mi ha molto colpito la vicenda di Marchionne il quale è entrato in clinica per un intervento chirurgico confermando tutti gli impegni della settimana di lavoro della settimana successiva alla sua segretaria insomma io invece vorrei un po' più di tempo vorrei abituarmi a queste cose e penso che sia molto importante per fare per scendere a patti con questo quarto quarto perché se si ha questo se si apre un confronto un dialogo un pensiero per esempio io racconto dell'esperienza che ho avuto con mio padre mio padre si è ammalato di un tumore al polmone anziano oltre gli 80 anni e io figlio maggiore glielo ho nascosto cioè non ho avuto il coraggio di dire proprio per il tabù della morte non gli ho detto cosa aveva allora ho cominciato a girarci intorno c'è una malattia ma guarirai adesso ti curiamo è un'infiammazione tutte queste cose così e mio padre se l'ha andato in sei mesi per me è stato io mi sono sentito sempre molto incolpato di aver fatto questa cosa mi ero anche consultato con delle persone con dei medici mi ha detto no ma non ti preoccupare se lo vuole sapere lo chiede invece meglio non dirlo invece è stato un errore drammatico perché poi ho scoperto che lui in realtà si era preparato la morte era andato a trovare le persone che conosceva da ragazzo così senza nessuna ragione gente che non vedeva da 30 anni andata a casa di gente che non vedeva da 30 anni aveva lasciato scritte a mano tutte le cose che tutte le organizzazioni familiari la pensione di reversibilità perché poi era uno preciso allora mi sono detto vedi che stupidaggine cioè quelli sono sei mesi fondamentali della vita di un uomo è possibile negarsi reciprocamente questa cosa per sfuggire al tabù della morte perché io pensavo di proteggere lui e lui pensava di proteggere noi tacendo a se stesso anche questa cosa e quindi mi è parsa una cosa sbagliata una cosa stupida e anzi suggerisco una serie di conversazioni possibili con le persone care che stanno per andarsene che sono tante possibili una delle quali è proprio quelle delle cose pratiche in cui mio padre era così preoccupato sì riprenderei quella che era stata una mezza domanda all'inizio siccome appunto nel capitolo fare pulizia si parla proprio di fare in realtà una selezione ecco io non sono stato capace di fare una selezione dei miei libri anzi sarà la causa di divorzio da mia moglie proprio non ce la faccio posso buttare via i libri che proprio non mi sono piaciuti ma tutti gli altri li tengo e quindi faccio fatica a farli stare tutti in una scatola di scarpe anche Maurizio Martini credo e volevo una breve descrizione di che cosa metterebbe nella sua scatola di oggetti libri e ricordi perché è simpatica intanto devo dirle una cosa che anche ieri era una presentazione di un libro a Roma ma in tutti i posti dove sono andati pare che la cosa che provochi più tensioni tra marito e moglie sia questa cosa il fare pulizia perché ovunque mi racconta questa è una cosa che litighiamo sempre c'è sempre uno nella coppia che vuole buttare tutto e uno che vuole tenere tutto deve essere proprio uno degli aspetti del matrimonio ecco uno degli aspetti fondanti del matrimonio io penso adesso oggi leggevo sul giornale su un sito c'è questa scrittrice giapponese che ha fatto un libro per dire come buttare le cose è vero pure che in Giappone c'erano le case di 20 metri quadrati per cui è più comprensibile lei è arrivata al punto di dire che sui libri più importanti quelli a cui tiene tanto lei suggerisce di ritagliare la pagina che ci è rimasta in testa e conservare solo quella per ridurre il volume quindi ci possono essere cose anche peggiori delle mie io però sto buttando dei libri io ho cominciato a buttare dei libri e va sicuro che non ci perde niente nessuno diciamo né io né gli autori dei libri perché c'è tanta produzione editoriale insomma che francamente così è occasionale non vale la pena compreso questo e prima o poi questo qualcuno lo butterà giustamente ma per dire che non bisogna fare degli oggetti dei feticci neanche degli oggetti diciamo così più significativi come sono i libri se uno ci pensa se uno si mette a riflettere alla fine se arriva a dieci libri fondamentali della sua esistenza è già una cosa importante è già tanto io ne ho indicati tre nella mia scatola sono l'Oblomov di Goncerov guerra e pace e il processo di Kafka così di tutto il resto si può fare a meno ma non solo i libri perché i libri l'esperienza di buttare i libri è un'esperienza interessante perché tutti dicono che il libro è sacro e non si deve buttare però il libro è un oggetto d'uso il libro lo consumiamo lo sottolineiamo ci facciamo le orecchiette non è affatto vero che il libro è sacro il libro è un oggetto d'uso guai se non lo fosse e quindi secondo me è porsi il problema di liberarsi dei libri inutili è anche un grande esercizio intellettuale perché ti costringe a pensare ai libri che hai cioè a giudicarli di nuovo a recensirli nella tua testa certe volte a risfogliarli perché non ti ricordi bene che c'è scritto ma sto libro di che parla fammi vedere quindi risfogli un libro altre volte devi scegliere per esempio tra edizioni diverse o tra traduzioni diverse e quindi ancora un lavoro più sofisticato dal punto di vista intellettuale quindi non è affatto vero che è un lavoro diciamo così che è contro la cultura anzi ti costringe a rileggere a ripensare a ridiscutere a rivalutare e penso che sia un'esperienza perché l'obiettivo di tutta questa storia è quello di lasciare questa si chiama Doddstanding in svedese in svedese esiste proprio questa tecnica che si chiama fare le pulizie della morte e si consiglia una ventina anni prima 60 anni di mettersi e cominciare a ripulire la casa e usare la casa come un testamento cioè tutto quello che lascio è quello che ho voluto lasciare non quello che è capitato lì oltretutto sottraendo ai figli la fatica di farlo loro perché poi lo sappiamo tutti che cosa vuol dire svuotare la casa di una persona cara che se n'è andata quindi facciamolo noi senza bisogno di passare loro e facendo questo noi ripercorriamo la nostra vita la semplifichiamo la asciughiamo diminuiamo il peso e scegliamo cosa veramente ci interessa però mi incuriosivano le cravate di Paul Stewart che non lo conoscevo Paul Stewart sono dovuto andarlo a cercare proprio mi mancava è New York però su cravate italiane è seta italiana per cui ho imparato anche alcune lezioni di vita d'altra parte ho avuto questa debolezza nella vita ma sono belle mi sono piaciuto va bene a parte gli scherzi continuiamo allora un'altra domanda seria perché alterniamo cose serie a cose più semplici e effettivamente soprattutto nel primo capitolo ma non solo si parla di una resurrezione laica cioè lui dice chiaramente che la resurrezione dei morti è della religione cattolica e lui si dichiara non credente però ci sono il libro è permeato il primo capitolo ma non soltanto di molti riferimenti e rinvii alla religione cattolica volevo capire che spiegasse un attimino meglio questo fatto che comunque non si può prescindere dalla resurrezione dei morti e da quello che è innato nella nostra cultura e nella nostra tradizione cattolica sì infatti usando la parola resurrezione che ovviamente è una parola impegnativa e perfino un po' blasfema diciamo per uno che non crede io diciamo ho scelto di farlo perché proprio per distinguere da rinascita ripartenza ricominciamento e così via proprio perché ho fatto così un po' di pensieri su questo tema che ha inventato il cristianesimo poi in realtà l'ha inventato poi Paolo di Tarso perché Paolo è il vero ideologo del cristianesimo diciamo quello che l'ha fondato Cristo diciamo è la persona storica che ha vissuto questa vicenda che poi ha dato vita a una religione però l'uomo che ha trasformato questo questo culto di una piccola setta ebraica in una grande religione universale non indirizzando più il messaggio soltanto agli ebrei ma anzi lui lo chiamano l'apostolo dei gentili cioè quello dei gentili sono i non ebrei come sapete cioè colui che ha deciso e ha combattuto anche contro diciamo gli apostoli di Cristo ebrei per portare questa religione fuori dal mondo ebraico e per trasformare in una grande religione universale che è Paolo beh insomma la resurrezione è un'idea straordinaria cioè è un'idea che ha cambiato la storia perché prima nessuno ci aveva pensato anzi quando Paolo va a parlare ai filosofi di Atene perché lui andava in giro per il Medio Oriente per il Mediterraneo a spiegare questa nuova religione e tra le altre cose va ad Atene a Atene incontra i filosofi i quali lo ascoltano con molta interesse e serietà per tutte le cose che dice poi a un certo punto lui parla della resurrezione dei morti e dice beh senti questa è la prossima volta ce lo viene a dire proprio lo mandano via dice lascia sta questa è una fesseria perché per la cultura greca era un concetto inammissibile loro diciamo concepivano che l'anima sopravviveva al corpo tant'è vero che poi in tutto l'Oriente c'è tutta l'idea della reincarnazione della metempsicosi dell'anima che dopo la morte va via e prima o poi si reincarna in un altro corpo oppure nella cultura contemporanea moderna eccetera c'è l'idea dell'annullamento totale l'idea materialista dell'annullamento totale cioè della fine totale cioè dopo la morte non c'è più nulla allora pur non riuscendo a credere alla resurrezione dei morti e quindi non potendo dirmi cristiano perché io per tutte le altre cose più o meno mi potrei anche dire cristiano per l'etica cristiana per la morale però proprio non credo nella resurrezione dei morti il fatto che i morti risorgono a un certo punto della storia nel giudizio universale non riesco a crederlo e ahimè è proprio scritto che non puoi essere cristiano se non credi in questo mistero ovviamente è un mistero ma ci devi credere quindi purtroppo per me non sono cristiano perché non credo in questa cosa però se considero le altre due alternative cioè l'anima che vaga e poi si incanna in un maialino in un uccello eccetera eccetera oppure la fine totale di tutto mi sembrano tutte e due più irrealistiche perché la fine totale di tutto non ci crede nessuno se ci pensate bene tutti razionalmente pensiamo che sia così ma nessuno ci crede veramente Dario Foch era un grande ateo come sapete ha detto ma è una cosa contraria alla mente umana l'idea che della storia di un uomo non resti più nulla e lo stesso vale per la per la storia dell'anima che vaga quindi alla fine l'idea della resurrezione ha avuto un successo planetario enorme è stata l'idea più fica della storia proprio perché corrisponde a un'esigenza vera degli esseri umani cioè la necessità di risorgere che finita una vita ne cominci un'altra ma non essendo io un credente e non avendo anche voglia di aspettare la morte prima di verificare se risorgono o meno mi sono posto il problema di se lo potevo fare in vita perché era questo che sentivo di aver bisogno cioè non meno di questo sentivo di aver bisogno di cominciare da capo una nuova vita di rinascere di risorgere e quindi per questo ho usato questa parola così impegnativa che però per fortuna non ho trovato diciamo accuse di blasfemia nessuno mi ha benissimo nel capitolo restituire il bene ovvero sentirsi indegni si parla anche del carattere terapeutico del give back di questo fatto di appunto di restituire alla comunità quanto si è ricevuto in precedenza a noi e addirittura da studi sull'anset e altro è risultato fuori che chi fa del bene oltre a provarne un'intima felicità sembra che abbia un'aspettativa di vita che è addirittura allungata per cui fare volontariato mi pare di aver capito e quant'altro fa del bene anche a noi per primi e quindi diventa sicuramente un ottimo impiego del proprio quarto quarto della vita si fa bene senza alcun dubbio credo ognuno di noi per esperienza diretta lo sa ma da qui poi arriveremo a un discorso anche più diciamo finale sul tema della felicità della possibilità di perseguire la felicità a un certo punto della propria vita fa bene lei ha citato la ricerca di The Lancet ci sono numerose ricerche che dicono che sentirsi a posto con se stessi ha una serie di vantaggi fisici combatte l'insonnia per esempio e comunque allunga anche la vita perché se noi distinguiamo lo stato di soddisfazione in due modi uno è l'edonismo cioè soddisfare un desiderio e uno è quello che si chiama eudemonismo che viene da eudamonia che è una parola greca che vuol dire sentirsi bene diciamo nella propria vita sentirsi bene nei propri panni lo stato di benessere che deriva non dall'assenza di dolore ma dalla convinzione intima che la nostra vita abbia un significato sapete bene che c'è una differenza tra quando uno sente che la propria vita ha una direzione un significato un valore quando invece è un po' sbalottato bene le persone che hanno uno stato di soddisfazione di questo genere gli è stato trovato diciamo è stato trovato in queste persone la produzione di proteine associate con geni che hanno a che fare con il benessere fisico con la durata della vita e così via quindi fa proprio bene e e oltretutto fa bene agli altri perché questo poi è un po' il lavoro che ho tentato di fare io perché vedete prima parlavo della storia di mollare cioè una delle possibili risposte a questi momenti è quella di scegliere se stessi di fare una scelta egoistica o egocentrica appunto mi godo i soldi che ho oppure mollo tutto i problemi e me ne vado eccetera invece io ho tentato di cercare delle strade che rappresentino una situazione quella che gli inglesi chiamano win-win cioè io ci guadagno e ci guadagnano anche gli altri ed è così far del bene è una classica situazione win-win cioè restituire qualcosa alla comunità che ti ha dato perché tutti abbiamo una comunità che ci ha dato dalla scuola alla alla città al comune al gruppo di amici e così via è una cosa che fa del bene alla società cioè consente alla società diciamo di di avere un capitale sociale maggiore e fa del bene a noi stessi qui si innesta tutto il tema sociale perché per esempio la potenzialità di fare del bene delle persone che vanno in pensione è immensa è immensa c'è un capitale enorme che noi potremmo che la società dovrebbe mettere a disposizione degli altri soprattutto dei più giovani sempre ammesso che i giovani lo accettino perché adesso c'è un problema di rapporto tra le generazioni abbastanza complicato negli ultimi tempi ma questo è un altro discorso quindi io ho raccontato la storia di una persona che conosco che è uno di Castellammare per l'appunto un ingegnere persona notevole che è insomma un pioniere dell'ingegneria aeronautica e astronautica che da Castellammare dal piccolo dal piccolo paesino della provincia napoletana meridionale è arrivato negli Stati Uniti ha costruito parti diciamo dello shuttle e così via il quale è arrivato a un certo punto si è avuto una malattia è uscito da questa malattia veramente ha dedicato tutto il resto della sua vita alla beneficenza adesso raccoglie soldi va in Africa è ingegnere costruisce ospedali e lui dice che il segreto dello star bene è smettere di pensare a se stessi diciamo dimenticarsi di se stessi penso che sia molto vero è un'esperienza che è molto diffusa anche nei paesi anglosassoni di cultura protestante dove produce degli effetti molto importanti negli Stati Uniti i maggiori centomiliardari cioè i cento più ricchi uomini degli Stati Uniti hanno sottoscritto un documento che si chiama The Giving Pledge in cui si sono impegnati a donare più del 50% del loro patrimonio in vita e molti di loro hanno donato già molto di più per esempio Bill Gates ha donato più del 90% del patrimonio per fare la differenza perché con tutti quei soldi si può fare la differenza si può cambiare la vita a venire di alcune generazioni sul tema dell'istruzione la lotta alla tubercolosi o la malaria eccetera ora siccome noi non abbiamo quei patrimoni lì possiamo fare però abbiamo dei patrimoni diciamo di esperienza di capacità di fare di istruire di dirigere eccetera che possiamo esercitare e qui faccio mille elenchi di cose che si possono fare abbiamo il nostro tempo da dare ed è utile estremamente utile quindi per me questo è un passaggio fondamentale io non ho ancora veramente cominciato sul serio questa cosa però ho aderito ad un'associazione che è nata a Milano che tenta di fare proprio questo cioè di spingere le persone che non lavorano più o almeno non lavorano attivamente ogni giorno che hanno più tempo di dedicarlo di impegnarlo in una specie di banca del tempo per darlo agli altri soprattutto poi ai più giovani c'è tanto da fare sì mi viene in mente che nell'autunno scorso ho presentato il libro di Eliana Liotta l'età non è uguale per tutti e tra i consigli che dava proprio per le persone diversamente giovani era quello di avere uno scopo nella vita e allora finito il tempo del lavoro arrivati in pensione avere uno scopo ti dà un obiettivo ti mantiene vivo ti mantiene e ti mantiene in forma e sempre a proposito di Eliana Liotta c'è un capitolo che parla di come sia importante godere ed esultare dove tra parentesi ovvero togliersi peso e il togliersi peso è fare anche una dieta per mantenersi in forma una dieta che sia una dieta intelligente se ne parlerà lui e parla anche di sport ecco qui sono in leggero disaccordo perché ho capito cosa intende dire cioè che nella appunto nel quarto quarto della vita sono meglio sono migliori gli sport un po' di fatica un po' ripetitivi che assomigliano come a un mantra tibetano nel loro ripetersi io però trovo ancora più divertente giocare a tennis e a golf in particolare il golf lo sponsorizzo per la terza età perché è fatto all'aria aperta lei gioca a golf? sì ho cominciato non da molto non sono bravo ma mi diverto ad andare in un ambiente piacevole bello paesagisticamente valido mentre per me la morte civile è il nuoto e camminare in montagna ma questo capisco però perché lui invece consigli e comunque lascio a lui la parola su queste due cose vabbè degustibus non disputandom no ma togliere peso in effetti non è riferito solo al peso corporeo però anche al peso corporeo perché tutte le tutte le insomma liberarsi di tutto ciò che non è essenziale tra le altre cose c'è anche il grasso il grasso non è essenziale no? ma questo non per ragione estetica proprio per per essere più leggeri insomma visto che dobbiamo fare un'ascesa nella parte finale della nostra vita è meglio essere più leggeri e da questo punto di vista io io penso che il camminare sia stata una grande scoperta per me non recentissima però veramente nel camminare anche nuotare a lungo hanno questa caratteristica un po' meditativa in qualche modo che liberano piano piano la mente la svuotano completamente a me capita certe volte di nuotare per 40 45 minuti 50 minuti e di uscire dall'acqua senza come se non come in uno stato di trance come se non avessi come se ci fosse entrato un istante prima senza ricordarmi che ho pensato per 40 minuti che è uno stato di pulizia della mente veramente notevole camminare lo stesso camminare in salita ancora di più camminare veramente è un'esperienza filosofica insomma secondo me però questo ognuno c'è il suo anche il tennis va bene no la cosa della dieta è semplicemente io lo uso per un'altra ragione non tanto per parlare della dieta e del dimagrimento ma per dire che io ho cominciato ad apprezzare il cibo dopo una dieta cioè nel senso che come in tutte le cose la conoscenza rende l'esperienza più più sofisticata più più approfondita più importante la mia dieta consisteva sostanzialmente come penso gran parte delle diete intelligenti per l'appunto non quelle un po' brutali nel capire che cosa si mangia nel capire che cosa si mangia che effetto ha quello che si mangia guardate che l'atto del mangiare è una cosa di una delicatezza estrema perché è un atto di incorporazione cioè l'unico momento della nostra vita in cui noi ci mettiamo qualcosa di estraneo dentro non è uno scherzo ed è per questo che ci sono tante prescrizioni alimentari e per questo che per esempio le religioni hanno abbondato in tabù alimentari noi abbiamo il vantaggio anche in questo della religione cristiana nella quale invece è molto libera da questo punto di vista per esempio prima parlavamo di Paolo nella nella religione ebraica ci sono dei divieti alimentari molto rigidi e ci sono anche dei divieti relativi a con chi mangi nel senso che non puoi mangiare con un non ebreo cioè mangiare puoi mangiare solo tra ebrei allora c'è questo questo racconto mi pare che negli atti degli apostoli nel centurione romano che è uno dei primi non ebrei che si avvicina al cristianesimo all'insegnamento di Cristo il quale invita Pietro a casa sua a pranzo perché vuole parlare di Cristo vuole capire Pietro è imbarazzato perché Pietro è un ebreo e a differenza di Paolo ci teneva dice no insomma non vuole andarci perché per la sua religione c'è una prescrizione che non deve andare allora a quel punto Pietro ha una visione ovviamente ispirata dall'onnipotente il quale gli dice tu puoi mangiare quello che vuoi perché Dio non ha creato nulla di impuro essendo Dio nulla di quello che ha creato Dio può essere impuro questa è una svolta culturale radicale nella storia dell'umanità perché prima tutte le religioni culti anche il politeismo considerava delle cose impure nel cristianesimo niente impuro poi ci sono delle regole alimentari che sono il digiuno settimanale quello della quaresima ma sono moderazioni non sono tabù alimentari non è questo non lo puoi mangiare il maiale non lo puoi mangiare no? oppure la carne deve essere prima completamente svuotata dal sangue come per gli ebrei eccetera diciamo questo è un vantaggio che noi abbiamo perché ci consente di avere un rapporto col cibo molto diverso dagli altri e bisogna però saperlo usare saperlo usare con moderazione con intelligenza quindi usare una dieta come uno strumento per capire che cosa stai mangiando è un'esperienza esistenziale non è soltanto per perdere peso è una cosa molto molto utile molto molto importante molto delicata è una materia molto delicata poi se è per questo io nel perdere peso suggerisco anche di perdere qualche valigia cioè per esempio a me è successo più banalmente una vacanza una delle vacanze più belle della mia vita è che ho perso la valigia e ho passato dei giorni diciamo così completamente senza niente alle spalle che hanno dato un tono una caratteristica un modo di vivere a quei giorni come se fossi un buon selvaggio uno che comincia da zero sono esperienze che non facciamo mai perché in realtà ci portiamo sempre a presso un sacco di roba quindi il mio perdere peso non è relativo solo al peso corporeo ma e poi introdurrei perché è un capitolo molto bello quello che si intitola mollare i figli visto che i figli spesso anche da grandi sono un peso se non altro nella realizzazione di questo percorso del quarto quarto della nostra vita spesso si ritarda la pensione o la realizzazione di alcune cose perché i figli sono ancora dipendenti almeno economicamente e quindi l'invito è quello di lasciarli volare mi è molto piaciuto perché lui cita alcuni termini uno in tedesco neshtoker che vuol dire uccelli che non lasciano un nido molto simile all'inglese failed uccelli che non riescono a volare e all'americano bellissimo che è un acronimo che è kid pairs che vuol dire in pratica ragazzi che ci mangiano la pensione ecco per cui richiama molto the kids in parents' pockets eroding retirement savings sì questa è una cosa mi accorgo ogni volta che ne parlo che è la più difficile da dire diciamo nel senso che vedo che le persone mi guardano in maniera un po' sospetto come mollare i figli in effetti soprattutto per noi italiani è una cosa un po' dura da dire mollare i figli io voglio dire semplicemente questo è bello anche quella giapponese parasaito shinguru single parassiti questo parasaito si capisce subito nel senso che questo è un fenomeno che io credevo tutti credevamo fosse particolarmente italiano quello dei ragazzi che non vanno via di casa che restano a lungo a casa ma in realtà si sta diffondendo in tutto il mondo perfino nella cultura americana che pure invece è costruita sulla sulla separazione abbastanza precoce dei figli della famiglia il college andare via e così via soprattutto la recessione del 2008 del 2008 ha dato diciamo ha creato un forte fenomeno invece di figli che restano a casa o tornano addirittura a casa ora qui c'è una cosa assolutamente nuova nella storia dell'umanità perché la la crisi demografica la riduzione del numero dei ragazzi e l'allungamento della vita per gli anziani sta creando situazioni in cui convivono nello stesso spazio ambito familiare più generazioni che è una cosa in sé innaturale perché un ragazzo a 30 anni nella storia dell'umanità in genere non vivevo più con i genitori questo è una cosa che cambia molto qualcuno ha sognalato per esempio che vivere senza fratelli come capita a molti figli unici rende anche difficile per esempio capire il principio della fratellanza quando uno dice libertà guaglianza fraternité i tre grandi principi dell'evoluzione francese fraternité cioè se uno non c'ha non c'ha manco un fratello è più difficile capire la fratellanza la fraternità quindi ci sono dei cambiamenti profondi radicali che sono in corso e questo demografico è il più radicale di tutti io non ho dubbi su questo la cosa più importante che sta succedendo nella nostra epoca è questa quindi che cosa polemizzo? io polemizzo con due rischi il primo è quello che i genitori si diano degli alibi cioè per paura di cominciare una nuova vita di risorgere perché è un diciamo intimorisce ricominciare da capo cambiare vita a tutti intimorisce spesso ci si dà l'alibi ma sai io devo ancora occuparmi ho ancora i ragazzi a casa oppure sono andati via però gli devo ancora aiutare allora devo ancora lavorare devo ancora produrre reddito i soldi non bastano devono farne altri devono fare gli altri risparmi e così via che è una cosa molto nobile molto bella però può anche diventare diciamo un ostacolo verso il godimento pieno di questo quarto quarto un ostacolo al prendere atto che la tua vita è cambiata cioè fingere di continuare a comportarti come prima con la scusa che ti devi occupare dei figli poi c'è l'altro rischio contro cui polemizzo che i figli vengano danneggiati da questo atteggiamento perché l'abitudine e la dipendenza sia affettiva che economica è un grande ostacolo alla maturazione ci sono fior di studi che suggeriscono ai genitori di non consentire ai figli di vivere diciamo così in una condizione migliore di quella che avrebbero se lavorassero perché io lo so che non c'è il lavoro e che quindi i ragazzi molto spesso restano a casa più a lungo o perché cercano diciamo di raggiungere un lavoro adeguato alle loro aspirazioni però mentre questo accade è giusto che vivano meglio di come vivrebbero se avessero già un lavoro perché questo accade in molti casi nelle nostre famiglie ed è frutto di un fatto positivo del fatto che le generazioni precedenti hanno accumulato con il loro lavoro ricchezze e patrimonio per fortuna questo è un paese estremamente patrimonializzato è un paese con un reddito inferiore ad altri paesi europei però con più patrimonio intendo dire patrimonio immobiliare case risparmi e così via ed è frutto il lavoro di generazioni che hanno avuto successo e quindi in qualche modo pensano di dover così aiutare di poter così aiutare i figli però una situazione in cui questo patrimonio venga usato per disincentivare i ragazzi a darsi da fare è pericoloso è pericoloso insomma perfino il piccolo lavoretto il lavoretto diciamo la contribuzione a casa per qualche aspetto della vita domestica eccetera sono consigliabili secondo me rispetto a un atteggiamento ma più in generale mollare i figli vuol dire non nascondersi dietro questo elemento per sfuggire alla necessità del grande cambiamento perché per non procrastinare anche per godere quel grande cambiamento anche per potersi godere quel grande cambiamento che comporta come credo che diremo diciamo poi nella parte finale comporta anche delle possibilità dei vantaggi e io volevo un commento sul capitolo intitolato venerare la bellezza che porta alla fine a dire innamorarsi della moglie ed è tutta un'elogia un'elogia dell'amore coniugale ma da che cosa nasce questa considerazione che ho trovato molto molto vera e molto mi sono riconosciuto e sua moglie ringrazio diciamo ma quando quando io mandavo i capitoli più o meno li vedeva un po' alla volta la ragazza che è la giovane editor di questo libro bravissima dopo che ha letto questo mi ha detto no no il capitolo va bene mi piace ma lei cioè ne ha parlato con sua moglie informata diciamo l'ha letto e ha detto sì sì guardi non si preoccupi avevo avuto già questa precauzione perché in realtà il capitolo racconta parte col racconto di come le persone credo a me è successo ma credo che sia un fenomeno generale arrivate a un certo punto della loro vita sono più dipendenti hanno più bisogno di bellezza cioè cominciano a sentire di più il bisogno di bellezza io mi sono accorto che uno dei cambiamenti nella mia vita è stato quello che oggi ho più bisogno di concludere una giornata di avere avuto di avere nella giornata qualcosa di bello qualcosa di bello può essere tante cose può essere un panorama un libro un film una conversazione qualsiasi cosa ma tra le bellezze c'è quella della bellezza delle persone dell'altro sesso e soprattutto le persone giovani le persone giovani sono estremamente appaganti non dico attraenti sono appaganti cioè la vista di una persona giovane uomo-donna secondo diciamo dei gusti delle persone di quello che colpisce le persone ma spesso anche di persone dello stesso sesso è una cosa vivificante tant'è vero che nella storia c'è tutto un filone c'è il mito della fontana della gioventù c'è il mito della fonte della gioventù cioè di un luogo dove i giovani danno vitalità e gioventù agli anziani c'è stato addirittura un periodo in cui provavano le trasfusioni di sangue dai giovani agli anziani sperando che gli anziani così ingiovanissero quindi è un fatto reale molto potente una spinta molto potente però diciamo ti fa incorrere in dei rischi perché tu cerchi questa bellezza della gioventù però devi imparare a non volerla più possedere a non voler più impadronirtene ma a venerarla semplicemente cioè a goderne a godere della sua esistenza senza pretendere di possederla e qui viene tutta una riflessione sull'amore cioè sui vari tipi di amore perché c'è quello che viene chiamato agape quello che viene chiamato eros c'è quello che consiste nel possesso perché l'eros è possesso è quella la sostanza dell'eros dell'amore dell'amore nel senso carnale e diciamo c'è l'agape che invece è il desiderio del meglio possibile per la persona amata per la persona desiderata quindi non desiderare di possederla ma desiderare di darle tutto quello che si può e da questo punto di vista ragionando su questo si arriva all'amore coniugale che è la forma più perfetta di un amore sotto questo aspetto e racconto di come possa rammendare anche momenti di difficoltà di 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 stacco di sofferenza di indifferenza più che di sofferenza racconto una cosa che mi è successa veramente che è divertente che ha rappresentato un po' una svolta nella mia vicenda personale e coniugale perché diciamo a un certo punto cominciato ad avere delle aritmie cardiache allora ho fatto un esame sotto sforzo e e l'ho dovuto interrompere perché l'aritmia cresceva diventava voi siete medici sapete il bigeminismo cioè un battito sì o uno no quindi ho detto fermo e quindi dovevo fare la coronografia perché mi hanno detto bisogna vedere che cosa c'hai nel periodo che aspettavo la coronografia il mio medico curante era un mio medico diciamo di riferimento che è un cardiologo che è mio zio il fratello di mia mamma è stato un cardiologo bravo importante un primario adesso ha tanti anni ha 90 anni però mi dava dei consigli mi dice però in questo periodo tu non fare non fare degli sforzi non correre stai attento agli spaventi alle paure a tutte le cose impreviste eccetera e ho detto vabbè da cosa poi ripensandoci parlando con mia moglie mi siamo detto ma il sesso allora l'ho richiamato mi dice scusa zio per una curiosità ma in questo periodo il sesso si può e lui ha detto ma il sesso che intende il sesso coniugale il sesso coniugale si può non succede niente però sta attento invece allora che cosa vuol dire questo che è un sesso inferiore no che è un sesso più sano ho pensato io e poi da lì abbiamo fatto sesso ed è stata una una cosa diciamo che mi ha fatto anche uscire da uno stato d'animo di ansia di angoscia l'imprevvisa sensazione di essere talmente invecchiato da poter avere perfino ah poi la coronografia è andata bene quindi non c'avevo niente benissimo e poi c'era anche il capitolo farsi digitali cioè di poter perché siamo la prima generazione che non è completamente analfabeta dal punto di vista informatico anche se non siamo ovviamente nativi digitali e quindi c'è tutta una riflessione su twitter sui social sul sull'uso positivo e consapevole che si può fare alla nostra età ma anche con i bambini piccoli aggiungerei dei social e sul grande vantaggio di liberare spazio nella nostra memoria nel nostro cervello utilizzando google la non necessità di ricordare nomi fatti e persone quando possiamo anche utilizzare questo tipo di risorsa e liberare spazio invece per cose più importanti per noi volevo un commento su questa beh questo è questo è un aspetto diciamo anche controverso discusso per esempio ieri parlando di questa cosa ho avuto molte contestazioni persone mi dicevano ma no non è così perché diciamo il digitale offre un'eccezionale occasione per gli anziani di domani per non essere soli per poter essere curati a distanza per potersi curare da soli ci sono delle cose spaventose adesso per esempio hanno dei calzini con i sensori stanno facendo dei calzini con i sensori che dicono a distanza al dottore se una persona anziana rischia di cadere in casa perché da come cammina si capisce se rischia di cadere e siccome io ho scoperto che il rischio di cadute domestiche è una delle cause di morte più maggiori diciamo per gli anziani non è uno scherzo e così via ci sono tante risoluzioni device tecnologici che oggi possono aiutare la vita degli anziani ma poi c'è anche un problema più diciamo mentale comportamentale non so se qualcuno di voi ha visto quel film di Ken Loach che si chiama Daniel Blake la storia di quel falegname inglese che ha un infarto quindi non può più lavorare ma non riesce a farsi riconoscere il diritto ad avere il sussidio del welfare dello stato sociale non in quanto disoccupato ma in quanto malato perché lui non vuole risultare disoccupato lo trova una cosa umiliante per se stesso avendo lavorato tutta la vita ma vuole essere autorizzato ad avere il sussidio in quanto malato per far questo però va in un centro per l'impiego e scopre che lo può fare solo su un computer cioè solo per via digitale non c'è altra possibilità e quest'uomo comincia una trafila per riuscire a capire come si fa e non ci riesce e alla fine però la burocrazia muore prima che di ottenere questo risultato quel film spiega splendidamente che cos'è il digital divide come si chiama adesso cioè la forma di discriminazione più pericolosa del futuro tra le persone che possono entrare in relazione con il mondo attraverso la rete e le persone che non possono farlo perché non lo sanno fare e noi che siamo arrivati che stiamo arrivando al quarto quarto avendo già avuto l'opportunità di passare per il digitale noi non siamo bravi come i nostri figli mio figlio è nativo digitale al punto che quando lui aveva tre anni quando io apparivo in televisione tornavo a casa si arrabbiava sempre io non capivo perché poi lui a un certo punto mi ha detto perché non mi saluti mai in televisione io dice ma come in televisione non mi saluti dice ma come faccio a salutarti perché per lui io ero stato per un periodo fuori e ci comunicavamo via Skype per cui per lui un video è interattivo cioè uno schermo è interattivo qualsiasi esso sia cioè dall'altra parte risponde ecco che cosa vuol dire essere nativo digitale la televisione che è uno mezzo molto antico è unidirezionale non è interattivo quindi per noi non siamo così però abbiamo una certa dimestichezza grazie a Dio e quindi potremmo probabilmente godere nel quarto quarto di questa possibilità di non essere esclusi dal mondo perché oggi il mondo lo si raggiunge soltanto in quel modo lì e faccio anche una riflessione sul tema della memoria leggendo per studiare un po' prima di scrivere questo libro ho letto Norberto Bobbio ha scritto un paio di capitoli non una cosa lunga sulla vecchiaia si chiama Desenectute anche lui l'ha chiamato così ed è una delle cose che racconta in queste pagine è del fatto che dice io adesso quando mi viene in testa un'idea una cosa che avevo pensato che mi ricordavo un libro che ho letto comincio un percorso complicatissimo brandelli di memoria che mi compaiono un po' alla volta devo cercare su un libro poi consulto un altro poi mi ricordo di quella cosa poi vado in biblioteca cioè raccontava del processo difficilissimo perché la perdita della memoria è una caratteristica tipica insomma dell'invecchiamento e per un intellettuale appunto diciamo per un intellettuale per uno che lavora con le idee col pensiero è un dramma è una cosa terribile ora Bobbio è morto poco prima che nascesse una memoria collettiva dell'umanità infinita potenzialmente senza limiti e raggiungibile con una facilità estrema questo è un io continuo a ripetere su questo mi contestavano perché dicono tutti che siccome adesso c'è Google non ci ricordiamo più niente perché non esercitiamo più la nostra memoria non impariamo più le poesie a memoria a scuola non facciamo più i calcoli a memoria perché tanto ci sono le macchine che ce lo fanno e c'è tutta una discussione su sì effettivamente questo è vero però è anche vero che i vantaggi invece di accedere a una memoria globale sono immensi io tante volte ricordo perfettamente una cosa un'idea ma non mi ricordo chi l'ha detta o dove l'ha detta e ne ho bisogno ma se vado su Google basta che io mi ricordi l'idea per risalire a chi l'ha detta e quando l'ha detta e tutta la discussione che si è aperta cosa c'è di male in questo l'importante se io non conoscessi quell'idea non ci sarei neanche lontanamente arrivato quindi comunque non ha intaccato le mie facoltà umane intellettuali ma le ha moltiplicate potenziate cioè noi vivremo da anziani nel quarto quarto con una memoria esterna a noi una memoria dell'umanità che a nostra disposizione io penso che questa sia una grande svolta nella storia dell'uomo come al solito tutte le grandi innovazioni tecnologiche che ci fanno paura all'inizio ci sembrano che ci tolgono l'umanità la debolezza dell'umanità ma certe volte invece ce la potenziano ce la moltiplicano assolutamente d'accordo e allora ci avviamo verso la conclusione l'ultimo capitolo di cui vorrei sentire appunto un commento intitolato cercare la felicità perché è un po' la sintesi di tutto quello che è stato scritto nei capitoli precedenti sì questo era quello che volevo dire mi preme a dire perché se no il discorso resta incompleto certo cioè diciamo quello che dico è che mi sembra alla fine di questo percorso mi è sembrato di vedere una possibilità e cioè il fatto che proprio il prendere atto dei propri limiti che è la cosa fondamentale dell'invecchiamento lo scoprire dei limiti che sono limiti fisici intellettivi affettivi morali ci sono cose che non puoi più fare per esempio il multitasking non lo puoi più fare io ho lavorato per tutta la mia vita professionale in una stanza piena di gente dove tutti parlano urlano e bisogna fare tre quattro cose insieme perché ho fatto il giornalista di macchina cioè quello che sta nell'ufficio del redattore capo deve smistare le notizie fare le valute insomma tutto un lavoro che si fa a grande velocità e con molte molte pedine sul tavolo contemporaneamente da qualche tempo io non ci riesco più non riesco più a fare tre cose insieme o quattro cose insieme proprio non solo mi distraggo ma mi arrabbio perché non le faccio bene mi accorgo che non le padroneggio più e allora questo prima all'inizio mi ha dato una sofferenza poi il riconoscimento del limite mi ha spinto a ragionare su quello che avevo io adesso faccio una sola cosa alla volta ma la faccio molto meglio con molta più profondità per esempio leggere studiare apprendere paradossalmente si è moltiplicata si è cresciuta la possibilità che oggi ho di approfondire un tema prima lo facevo meno lo facevo meno perché facevo tre cose insieme prima correvo adesso cammino camminare è stata una scoperta perché ha comportato la lentezza del camminare diciamo così ha i suoi piaceri i suoi gusti quindi la scoperta dei limiti forse ti avvicina di più alla possibilità di cercare la felicità cioè io dico arrivata a questo punto della propria vita nella mia vita io sento finalmente per la prima volta di essere intitolato di un diritto alla ricerca della felicità voi sapete che questa è una materia molto controversa perché non è diritto alla felicità nessuno ha diritto alla felicità come è ovvio così come nella Costituzione italiana c'è scritto diritto alla salute non vuol dire che abbiamo tutti il diritto a star bene abbiamo tutti il diritto al fatto che lo Stato metta in campo tutte le sue risorse per aiutarci a curarci a guarire eccetera eccetera così è il diritto alla ricerca alla felicità la quale pure si trova in una Costituzione in una Costituzione americana c'è scritto che la libertà del luogo garantisce la libertà dell'uomo e la sua possibilità della ricerca della felicità cioè dell'autorealizzazione quindi non è garantita ma si può cominciare a cercarla ma a che condizione però a condizione di smettere di considerare la felicità come uno stato d'animo che poi in realtà è una è un'idea della felicità molto recente nella storia umana più o meno corrispondente al periodo diciamo alla nascita del capitalismo cioè lo stato d'animo la felicità vuol dire l'autosoddisfazione la soddisfazione di se stessi quanti soldi ho quanti amici ho quante relazioni ho quante cose posso fare quanto successo ho nelle mie attività nel lavoro e così via quindi uno stato psicologico sono soddisfatto di come sono io sono felice poi tutti sappiamo che questa felicità va e viene non si acchiappa sempre dura poco e va bene ma se invece di considerarla tale noi considerassimo la felicità non come uno stato dell'animo ma come una come una dotazione di virtù e saggezza che conquista a chi ne è degno un'esistenza piena di significato e la stima della comunità questo è il modo in cui il pensiero classico Aristotele considerava la felicità come vita buona e giusta non come soddisfazione personale ma come diciamo il riconoscimento della comunità in cui vivi del fatto che conduci una vita giusta una vita buona se questo è la felicità ma allora possiamo raggiungerla abbiamo diritto a cercarla e come nelle vicende precedenti abbiamo anche tutto sommato il dovere di farlo perché se riusciamo facciamo del bene anche alla comunità in cui siamo e quindi da questo punto di vista io suggerisco per concludere un obiettivo molto ambizioso quello di diciamo siamo partiti con l'angoscia della scoperta davanti allo specchio che qualcosa di te è morto si può arrivare alla fine di questo percorso a cercare di riempire il quarto quarto della vita questa lunga fase della vita che abbiamo davanti dell'obiettivo più ambizioso che un essere umano possa avere cioè quello di tentare di essere felice mi pare splendido grazie grazie abbiamo fatto un po' una panoramica di più o meno di tutto di tutto quello che è stato trattato nel libro e quindi se c'è qualche domanda specifica su qualche argomento o qualche domanda in generale credo sia ben voluta ecco qui non abbiamo il gelato sì sì c'è che arriva sei tu grazie e vabbè mi alzo sì allora mi alzo in piedi e credo di rappresentare il 4% in questa sala di giovani no a parte gli scherti io stavo riflettendo quando si parlava del liberarsi di libri e di oggetti in generale perché una cosa che mi riconosco e riconosco anche un po' nella mia generazione è invece proprio il contrario cioè il desiderio di accumulare merci feticismo eccetera e però io trovo la scelta di liberarsi appunto dei libri o di oggetti significativi qualcosa di estremamente narcisista narcisista perché è come se si volesse consegnare un'immagine controllata completamente alle persone che poi vengono a liberare le nostre case una volta che siamo morti o comunque ci conoscono dopo la morte io invece ho avuto la fortuna di avere una parente che è morta l'anno scorso e mi ha lasciato in eredità la possibilità di scegliere dei libri dalla sua biblioteca io non conoscevo molto bene questa parente però proprio attraverso il vaglio dei libri ho scoperto delle cose che mi hanno arricchito molto ma delle cose che venivano fuori da delle dediche fatte a Natale come regalo da delle cartoline infiltrate nei libri da delle scelte di lettura o di non lettura perché ad esempio c'è la casa di Umberto Eco che è piena di libri che lui non ha mai letto però comunque ci teneva a questo discorso e credo che quindi la profondità delle librerie così come librerie domestiche intendo biblioteche domestiche così come la profondità che possono avere altri oggetti sia invece un valore di lentetta a cui non siamo più abituati proprio in una società di velocità quindi volevo sentire un attimo il mi scusi lei ha avuto questi libri li ha bagliati e poi ha tenuto una parte una parte l'ho tenuta l'altra parte non l'ho buttata infatti volevo anche chiederle ma lei realmente ha buttato i libri l'ho regalata oppure l'ho portata in centri dove sapevo che qualcuno avrebbe goduto di questi libri quindi ha fatto una selezione però ho fatto una selezione ma non una selezione per dare un'immagine di me stesso a chi sarebbe venuto beh ha fatto una selezione però più che per dare un'immagine di me stesso a chi viene dopo la selezione la faccio innanzitutto per me nel senso che io sì ci sono dei libri che butto onestamente perché nella mia vita mi sono arrivati anche una quantità di libri che meritano di essere buttati che non hanno alcun valore io non ho questo feticismo del testo scritto onestamente però capisco perché infatti questa mia affermazione è spesso contestata quando i libri non si buttano mai qualcuno l'ho anche buttato altri li ho regalati perché anche quella è una selezione quelli che meritano di essere regalati perché poi non è diciamo non si calcola peso però ciò che più di tutto mi interessa è il tema della selezione che poi alla fine anche lei ha fatto cioè lei si è messo a guardare i libri alcuni hanno un valore affettivo alcuni hanno un valore per una dedica alcuni hanno un valore per un ricordo alcuni hanno un valore per una sola pagina a ragione la giapponese alcuni hanno valore perché hanno avuto un valore nella vita di una persona quindi e comunque questo è frutto di una selezione e l'occasione di diciamo così di rifare questa selezione per lei è stata un'occasione diciamo di arricchimento quindi la scelta anche lei ha scelto tra ciò che era essenziale e ciò che non era essenziale dell'eredità che ha avuto diciamo chiamiamola così quindi io penso che più che altro valga come esperimento poi naturalmente siccome questo non è un libro di consigli insomma è un racconto di un'esperienza mia ovviamente non è detto che debbano essere accolti però lo scopo non è tanto quello di dipingersi in un certo modo di disegnarsi in un certo modo anche se non le nascondo che dai libri che tu lasci ai tuoi eredi dai anche un'idea di te molto precisa molto importante molto definita quindi più che per narcisismo è un modo di continuare a comunicare con chi viene dopo di te attraverso le tue scelte attraverso le scelte che hai fatto però insomma non si possono anche non buttare ecco voglio dire non è obbligatorio poi c'era Pepe Carbaio di Montalbanca invece gli usava i libri per accendere il caminetto ecco vede io non volevo dirlo ma è carta in fin dei conti sono alberi sì intanto grazie professor Polito per averci regalato a noi di provincia profonda del nord siamo tutti di provincia io sono provincia del sud sud ovest è un'occasione importante di cui approfittiamo volentieri io ho letto molto volentieri il libro che mi è stato regalato da un caro amico in vista di questa sera e mi ritrovo in molte siamo più o meno vicini d'età io sono un po' più giovane ci siamo quasi e quindi mi ritrovo in molte delle analisi delle sensazioni soprattutto che traspaiono dal libro e però è parecchi giorni che ci penso e stasera la sensazione mi è confermata e guardi non vuole essere una critica perché non è caso ma è una constatazione e le tematiche affrontate e quindi il libro è cosa da ricchi mi spiego meglio da privilegiati di cui io mi riconosco nel senso che vabbè faccio un lavoro prestigioso che mi ha dato soddisfazione mi avvio verso la fine della carriera dopo aver sì messo da parte un patrimonio che servirà per me per i miei figli a sufficienza non avrò una pensione non come quella che si sta prospettando in questi giorni ecco non la pensione di cittadinanza insomma e quindi forse mi ritrovo in queste analisi le sento vicine ma come diceva anche il dottor Fusco prima che ha accennato le sue abitudini da adesso va a giocare a tennis va a giocare a golf vuole dire non è cosa da tutti e mi viene in mente il mio amico che ho il mio compagno di banco delle elementari che ho incontrato l'altro giorno per motivi di lavoro mi diceva che ha fatto una scelta sbagliata dopo aver lavorato una vita io mi occupo molto di previdenza e ha fatto una scelta sbagliata e quindi ha sbagliato ad organizzare gli ultimi anni di lavoro per ritrovarsi con una e si è ritrovato con una pensione veramente da fame lui la moglie che non ha un lavoro precario mi diceva ma io come faccio ho 60 anni 58 59 cosa faccio nel resto della vita come faccio dove vado come farò nel futuro allora noi mi metto nella categoria di quelli che stanno bene insomma siamo affrancati da queste preoccupazioni basilari perché arriviamo tranquillamente alla fine del mese ecco ripeto non è una critica ma queste sono domande sono risposte che valgono per un certo tipo di persone allora mi chiedevo se ha avuto modo di riflettere su come queste indicazioni questi consigli che molto semplicemente lei dà possono valere anche così per la generalità possono costituire una sorta di consiglio da amico di messaggio per tutti fra virgolette quindi anche per quella se ci siamo capiti insomma e poi un'ultima considerazione volevo approfittando del suo ruolo pubblico diciamo di uomo dell'informazione via riportarla all'attualità di questi giorni al decreto che è stato approvato ieri sempre in materia di previdenza e di assistenza in questa scelta che è stata fatta poi vedremo se durerà se è sostenibile o no però nell'immaginario di tutti sono state compiute delle scelte che tendenzialmente portano a facilitare l'accesso alla pensione anticipandolo e tendono a garantire un tenore di vita più accettabile a quelle fasce di popolazione che soffrono di più allora in questo lei vede un altro tentativo un altro esperimento un'altra pratica di resurrezione su un piano macro oppure vede una un pericolo di regressione nel senso che questo potrebbe valere anche come strumento di depressione di quelle energie che invece si potrebbero esprimere è detta più semplicemente aggiungerebbe un capitolo riscriverebbe qualche capitolo dopo gli sviluppi così eclatanti di questi giorni la ringrazio della domanda lei ha ragione non c'è niente da dire è chiaro che questi sono discorsi da privilegiati privilegiati come se privilegiati intendiamo quello che siamo la grande maggioranza di noi italiani innanzitutto di noi europei rispetto al resto del mondo perché probabilmente per un diciamo per un contadino cinese che è andato a lavorare per la prima volta nella sua vita in una fabbrica in città la vicenda esistenziale si pone in termini completamente diversi io non credo che siano ragionamenti da ricchi perché non credo questo non credo che 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 esibiscano diciamo così la protervia del ricco che può occuparsi di cose non materiali certamente riguardano persone che non hanno il problema della sussistenza e in Italia ahimè negli ultimi anni si sono accumulati alcune milioni di persone che hanno un problema di sussistenza e da questo punto di vista io penso che diciamo il porsi il problema per il potere pubblico di allargare l'intervento del welfare dello stato assistenziale dirigendolo soprattutto verso la cura e la tutela della povertà non sia in sé una cosa sbagliata tutt'altro dipende da come si fanno queste operazioni perché queste sono operazioni di ingegneria sociale sono sempre molto delicate tu stai prendendo dei soldi a qualcuno perché questa è una cosa che noi non ci ricordiamo mai stiamo prendendo quei soldi a qualcuno questi 10 miliardi che vanno tra un po' di più che vanno tra pensioni e reddito di cittadinanza non è che ce li dà l'Europa perché nella testa degli italiani è venuta fuori l'idea che c'è un tesoretto a Bruxelles che noi ogni tanto sbattiamo i pugni sul tavolo ci pigliamo dei soldi e ridiamo agli italiani non è così sono soldi che stiamo prendendo a debito noi o che stiamo prendendo dall'imposizione fiscale cioè dalle tasse che pagano gli italiani quindi sono sempre soldi degli italiani che vengono tolti a una parte degli italiani è data la parte più debole nel caso del reddito di cittadinanza nel caso del quattrocento non è la parte più debole è la parte che ritiene invece di avere un diritto maturato per gli anni di lavoro e così via nel reddito di cittadinanza la parte più debole socialmente più debole la cosa è delicatissima perché per due ragioni la prima che puoi sbagliare a darli nel senso che i soldi possono arrivare alle persone sbagliate e questo francamente nel sistema assistenziale italiano non sarebbe l'affatto la prima volta anzi era norma in Italia il sistema di welfare è diventato un sistema che consegna le classi medie e non dà niente ai poveri tant'è vero che il governo Gentiloni è stato il primo nella storia a fare il reddito di inclusione cioè diciamo diretto ai veri poveri ora siccome questa è un'operazione in cui non si capisce se i soldi devono andare ai poveri o devono andare a indirizzare verso il lavoro le persone che sono due funzioni completamente diverse e soprattutto non gestiranno più i servizi sociali dei comuni che conoscono diciamo le condizioni dove sono i poveri ma le gestirà l'Inps attraverso un complicato sistema di incroci di dati elettronici per cui devi sapere se c'è la cassa di proprietà quanto è stato il tuo reddito l'anno scorso quanto quello cioè una cosa un po' complicata c'è il rischio che vanno alle persone smagliate questo è il primo problema il secondo problema è un calcolo costi benefici io prendo 12 miliardi di soldi degli italiani e li metto in quest'operazione se li avessi messi in un'altra operazione per esempio ridurre le tasse ridurre l'Irpev il vantaggio collettivo crescita economica sviluppo reddito eccetera sarebbe stato maggiore o minore questo è il secondo rischio cioè fare una valutazione dove mi conveniva mettere questi soldi io non so come la pensate voi ma i 10 miliardi all'anno degli 80 euro di Renzi certamente saranno stati una cosa buona per le persone che hanno avuto quegli 80 euro in più che non ne hanno mica buttati ma non hanno cambiato la situazione del paese dal punto di vista economico perché noi da qualche anno continuiamo a credere che la soluzione sia mettere un po' più di soldi in tasca alle persone per rimettere in piedi l'economia su una base sbagliata cioè sulla base dell'idea che bisogna stimolare il mercato dei consumi che poi non si stimola così perché ahimè le persone che hanno avuto gli 80 euro ci hanno pagato i debiti o le hanno messi da parte sapendo che prima o poi gli sarebbero serviti non è vero che se tu dai 100 euro a una persona quale se li spende subito intanto è vero che nel re di cittadinanza c'è questa follia che te li devi spendere tutti perché se no non te li danno più cioè uno non può un povero non può dire oh voglio tenermi 50 euro da parte per l'anno per il mese prossimo no devi spenderli tutti perché c'è questa ossessione che devono spingere i consumi vabbè comunque questo è un altro discorso quindi il welfare a questo serve a tenere la coesione sociale a tenere un paese il più uguale possibile perché questo non è solo un bene morale ma è anche un bene economico la coesione sociale nel senso che le società più ugualitarie funzionano meglio dal punto di vista anche economico quindi è giusto devi indirizzarli bene e non devi sperperarli cioè non devi farli per ragioni elettorali o di successo del tuo elettorato o di scambio e così via soprattutto devi stare attento a non creare delle disuguaglianze morali gravi nel senso che se poi finisce diciamo così uno che fa il lavoro nero al sud o magari diciamo così un camorrista napoletano che spaccia la droga prende il diciamo il re di cittadinanza come accadrà ahimè a qualcuno e invece magari una persona di un altro posto d'Italia che siccome ha la casetta che gli ha lasciato in realità il padre risulta proprietà di casa e quindi non prende il re di cittadinanza e magari non lavora ed è una persona indigente rischi di creare delle tensioni però questa è la politica la politica fa queste operazioni sono molto delicate volevo però dire una cosa finale sul tema del discorsi da privilegiati oppure no è vero e lo riconosco non c'è dubbio che sono discorsi borghesi questi perché riguardano diciamo una fetta della società italiana abbastanza ampia secondo me anche maggioritaria però attenzione a non pensare che i poveri non abbiano diritto ad avere bisogni che non siano materiali cioè non è che il discorso della felicità dell'autorealizzazione del rapporto con gli altri del rapporto con i figli del far bene del dare il proprio tempo non debba riguardare le persone che non hanno un certo reddito perché questa sarebbe una forma di discriminazione al contrario ritenere che c'è una fetta della popolazione italiana che deve preoccuparsi solo di mangiare invece anche le persone che hanno problemi per mangiare hanno un animo una cultura un pensiero una testa e bisogni materiali bisogni non materiali quindi la parte almeno la parte diciamo così esistenziale di questo ragionamento per quanto mi riguarda deve concernere concerne tutti indipendentemente la loro condizione economico-finanziaria perfetto c'erano altre domande in sala possiamo possiamo chiudere qui e ringraziarlo perché è stata una bellissima serata grazie a voi è stata per me una bella serata grazie davvero grazie a voi grazie a voi grazie a voi